Buongiorno a tutti, oggi voglio fare la recensione di queste pesche che ho appena trovato al supermercato qua a Milano è una pesca Bivona IGP che da molto tempo ne sentivo parlare appunto avevo fatto anche delle ricerche e oggi appena le ho viste mi sono precipitato a comprare due vaschette e andiamo subito a vedere com'è questa pesca col pizzettino bianca qui è un IGP dove racchiude sicuramente varie diverse varietà di pesche questa si chiama Agostina, ecotipo Agostina della Sicilia e solitamente le pesche siciliane poi figurati queste sono veramente buone quindi immagino che qui ci troviamo davanti una pesca fantastica adesso io l'ho già tagliata e vedete questa qui col pizzo, guardate qua che meraviglia eccola qui, adesso mi tocca fare la prova dell'assaggio il profumo intenso, ha un profumo meraviglioso, ha una colorazione che è proprio un bianco crema è bella soda, calcoliamo anche che una pesca che arriva giù dalla Sicilia ha fatto il suo percorso sicuramente vengono staccate dalla pianta ancora diciamo belle, diciamo indietro come pesche perché non è che possono staccarle che sono già mature come le vedete adesso perché se no il tempo di viaggiare i vari step si passerebbero di maturazione comunque dal profumo adesso vado subito alla prova dell'assaggio mamma mia che buona veramente veramente buona vale la pena spendere 50 euro in più al chilo però ragazzi ha tutto anche una leggerissima nota di di amarognolo che ci sta benissimo mamma è buonissima veramente buona io vi ringrazio come sempre di vedere i miei video e un abbraccio un abbraccio ai siciliani che hanno delle pesche meravigliose ripeto meglio a volte spendere qualcosa in più al chilo e trovarsi un progetto tra l'altro è in linea in linea con più o meno con le altre pesche però è un IGP veramente veramente buono eccola qua un saluto a tutti e buona giornata